I libri che mi hanno creato la vita ce ne sono parecchi ideali, soprattutto i classici. La finzione di Borges, perché lì ci sono gli universi, i labirinti, le sfere, le scelte, le complicazioni, i ritorni, tutto quello che l'uomo può immaginare e creare è scritto in maniera che solo Borges sapeva fare. Credo che l'obiettivo fondamentale dell'uomo è continuare a uscire, continuare a uscire da se stesso per tornare in se stesso e questo è il destino dell'arte, non ci sono vie di mezzo, l'uomo che rimane anonimo o a metà o mediocre non è assolutamente, non porta a termine il suo compito che è quello di diventare l'uomo a tutti gli effetti.